Torre del Greco covid free da tre giorni. Sono sempre più confortanti i dati relativi all'andamento del covid-19 nei comuni vesuviani. La situazione a Torre del Greco rimane invariata, nessun nuovo caso positivo da circa 72 ore. Una situazione di stasi però che non vede neanche una guarigione nelle medesime ore. Il bilancio dei contagiati rimane dunque firmo con 178 attualmente positivi di cui 15 ospedalizzati. Reassicuranti anche i dati di Torre Annunziata, nelle ultime 72 ore sono stati effettuati 275 tamponi di cui solo 7 con esito positivo. L'indice di positività si attesta dunque al 2,54%. Al contempo si registrano anche 24 guarigioni. Portici invece registra un solo nuovo caso positivo su 129 tamponi effettuati, confermando l'ottimo andamento dei dati come nel resto dei comuni vesuviani. Anche i dati di Bosco Reale in calo. Gli attuali positivi sono diminuiti a 101. Fino all'8 maggio erano in 141. Rimane invece invariato il numero dei decessi, che sono 47. Continua la campagna vaccinale e al 13 maggio sono 7.310 le dosi di vaccino somministrate ai cittadini boschesi, con un indice del 19%.